Buongiorno a tutti! Qual è la più grande fonte di energia che abbiamo come esseri umani? Lo stile di vita. È inesauribile, è sostenibile ed è circolare. Lo stile di vita ci permette di essere al meglio di noi stessi nella vita, quella privata e quella lavorativa. Ci permette di essere in life balance. Sì, perché il work-life balance non esiste. Esiste un equilibrio generale che ci dà motivazione ed energia per capire, uno, chi siamo e, due, come agire di conseguenza. C'è della scienza dietro questo. La nostra frequenza cardiaca, l'attivazione di neurotrasmettitori e l'assetto ormonale, la tipologia e la quantità di stress e il controllo dei nostri sistemi nervosi passano tutti per un equilibrio, il vostro stile di vita. Osservare e dare una direzione a questi aspetti permette di elevarci, di diventare consapevoli e la consapevolezza porta al pensiero che funziona, quello che ci rende manager, imprenditori, madri, figli o padri migliori, quello che ci rende la miglior versione della persona che siamo. Questa è stata la motivazione che ci ha spinto a creare un percorso stile di vita in azzurro digitale. C'è del lavoro da fare e ci sono delle tecniche, ma quando si è orientati al futuro e si hanno degli obiettivi, un coach può essere il vostro partner e meglio ancora se è un coach certificato di medicina funzionale. Volete approfondire questo quanto conti nella vita e nel lavoro? Vi lasciamo un buon articolo da leggere. Buono stile di vita a tutti, da Motiviamoci e dal vostro Head Coach. Buono stile di vita a tutti, da Motiviamoci e dal vostro Head Coach.